Mi stupisco più di niente, mi stupisco però di una cosa, che per far sì che si avveri quello che diceva Giacalone prima e anche il Presidente Bertinotti vorrei che il buongiorno si chiamasse buongiorno, vorrebbe dire avere finalmente una maggioranza che governa questo Paese eletta, cioè eletta dal popolo. Noi siamo al quarto Presidente del Consiglio che non ha ottenuto una maggioranza popolare per cui, non voglio dire che il Presidente del Consiglio non è eletto perché se no qualcuno mi potrebbe dire che non ha eletto la Costituzione, no no l'ho eletta benissimo, la maggioranza però non è quella che è passata, che darà la fiducia, non è quella che è passata per una consultuzione popolare perché non c'era. Allora, credo che siamo vivendo in una fase in cui la politica, visto il messaggio che è stato dato al referendum, secondo me non è soltanto Renzi a casa e no alla pessima riforma costituzionale, ma credo che sia un messaggio ancora più potente da parte del popolo, ossia la politica torni ad occuparsi in primis di quelli che sono i problemi dei cittadini, piuttosto che delle poltrone, ecco perché dico un film horror a sentire Ala, piuttosto che Alfano che oggi rivendica magari un ministro più importante di quello dell'interno, non lo so. Il ministro degli esteri, detto questo, siccome sono convinta che si possa andare, proprio per quello che si diceva prima, presto ad elezioni perché? Perché non è necessario portare in Parlamento dopo che giovedì o mercoledì Gentiloni verrà a chiedere la fiducia, diciamo che la fiducia la ottiene perché sono state distribuite qualche poltrone, quindi la ottiene. Ma la ottiene, la ottiene, di conseguenza il governo è in pieno di Bruxelles, il governo quindi è ufficialmente in carica, nessuno vieta al Parlamento di portare immediatamente in aula una proposta o un più proposto. La Lega lo farà.